Vi è mai capitato di avere di fronte la scena perfetta di realizzare una ripresa video e poi di tornare a casa e a computer rendervi conto che i colori sono sbagliati? È successo a tutti, non vi preoccupate, siamo qui oggi per cominciare a mettere una pezza. Oggi andrò a spiegarvi quelli che sono i principali strumenti di analisi della colorimetria della nostra ripresa video all'interno del software Premiere Pro e se stiamo utilizzando una versione recente, una versione diciamo superiore alla CS5 e CS6, dovremo avere tutti gli stessi strumenti. In particolare lo strumento che andremo a utilizzare sarà il filtro Lumetri Color e andremo a utilizzare gli strumenti di analisi già implementati all'interno del software per analizzare le nostre riprese, andare a capire come sono le luci, come sono i colori, come si comportano e come possiamo modificarli. All'interno di questo primo video andrò a spiegarvi semplicemente quelli che sono gli strumenti di analisi perché è importante capirli a fondo prima di cominciare a mettere mano alle riprese. In capitoli successivi andremo a vedere come si usano gli strumenti di Lumetri Color per andare a intervenire sui parametri che stiamo esaminando con gli strumenti di analisi. Tuffiamoci all'interno di Premiere Pro e andiamo a incominciare. Molto bene, eccoci qui all'interno dell'interfaccia di Premiere Pro. Come potete vedere qui c'è il mio stupido faccione perché questo è il montato di uno dei miei video precedenti con già tutta la color correction applicata. Come potete vedere questo è il livello di regolazione che ho chiamato EOS R7 che applica la mia color correction. Infatti queste sono le riprese originali in formato log e questo è il mio output finale. Oggi non ci concentreremo tanto sugli strumenti di modifica quanto sugli strumenti di analisi. Andiamo a vedere che nel momento in cui vogliamo applicare l'effetto Lumetri Color lo andiamo a selezionare semplicemente da qui. Qui è sufficiente scrivere il nome quindi Lumetri Color e all'interno di Video Effects e Color Correction abbiamo il nostro effetto che possiamo trascinare su una clip se lavoriamo sulla singola clip oppure sul livello di regolazione. In questo caso io l'ho applicato come vedete sul livello di regolazione. Quindi queste sono le mie modifiche. Ovviamente se io vado a spegnere il livello vedete che la mia ripresa torna in formato originale. Ma io come ho fatto a fare queste modifiche? Andiamo oggi a prendere in esame quelli che sono gli strumenti di analisi, quelli che mi permettono di capire che tipo di modifiche fare. Per cui andremo su finestra e andremo a selezionare Lumetri Scopes. Vedete che si apre una nuova finestra che adesso viene automaticamente posizionata qui. Io posso lasciarla qui oppure posso disancorarla in maniera tale da portarmela dove voglio. Ora quello che vediamo all'interno di questa finestra sono degli strumenti già configurati perché li ho configurati io precedentemente. Se andiamo a cliccare col tasto destro vediamo che abbiamo il Vectorscope e quindi se lo facciamo sparire vedete che è sparito. Abbiamo l'istrogramma, abbiamo Parade RGB e abbiamo Waveform. Ora cominciamo con Waveform. Come potete vedere questa è un'interfaccia che mi fa vedere sostanzialmente le informazioni di luminosità che ci sono da destra a sinistra della mia immagine. Infatti se io vado a posizionarlo in questa maniera fate conto che queste sono le informazioni luminose presenti nell'immagine quindi fondamentalmente questo picco è la mia faccia mentre tutto il resto è abbastanza scuro. Guardate che cosa succede quando io vario l'esposizione. Vedete che io aumento l'esposizione e questo grafico si muove di conseguenza quindi nel momento in cui io vado ad aumentare l'esposizione si sposta tutto verso l'alto. Ora lo vado a riportare al valore precedente. Ovviamente qui abbiamo un minimo e un massimo. Come potete vedere abbiamo un minimo di 0 e un massimo di 100. Ovviamente se andiamo a eccedere questi valori per esempio se io vado a portare tutto vedete sono arrivato a 0 vedete che l'immagine oltre a diventare tutta buia sta anche perdendo molte informazioni perché l'abbiamo portata a un livello tale per cui le informazioni sono troppo schiacciate quindi dobbiamo cercare di stare lontani dallo 0 e dal 100. Possiamo avvicinarci magari anche di parecchio quindi io posso fare questo e ancora non ho una vera perdita di informazioni anche se è palesemente troppo chiara perché comunque sono nell'area tra 100 e 0 quindi in questo modo per quanto brutta la mia immagine potrebbe anche essere corretta. Ora vado ad annullare e ritorno ai parametri precedenti. Ora ci sono delle cose importanti da tenere a mente quando si utilizzano questi strumenti. La prima cosa è di non tenere clamp signal perché se teniamo spuntata questa casella fondamentalmente non ci fa più vedere qual è il livello di compressione a cui stiamo arrivando cioè non ci fa più vedere quando arriviamo oltre lo zero con il nostro segnale perché c'è un limiter che ci impedisce di vedere che ce lo clampa prima. Infatti come potete vedere se io adesso faccio la stessa cosa di prima vedete che qui c'è una linea che non mi fa più vedere dove sto andando. Se io invece lo tolgo non so se riuscite a vedere questi questi segmenti molto piccoli che vanno oltre lo zero. Quindi è importante non spuntarlo in maniera tale da vedere bene quello che stiamo facendo. Un'altra cosa è questo parametro. Qui possiamo lavorare su 8 10 bit oppure float oppure HDR ma questo ve lo sconsiglio. Ora 8 bit è lo standard su cui lavorano normalmente i software di video però noi abbiamo la possibilità di registrare in 10 bit con molte delle fotocamere e videocamere in commercio in questo momento. Infatti la mia camera con cui sto lavorando in questo momento registra 10 bit. Per non correre rischi e per non doverci più stare a pensare io imposto float quindi sostanzialmente il sistema si adatta a seconda di quelli che sono i bit delle mie riprese che è secondo me il modo migliore di lavorare in questo caso visto che possiamo avere riprese con bit depth differenti. In questo modo sono abbastanza tranquillo non devo mescolare troppe riprese diverse ovviamente lavoro sempre con la stessa camera sempre con le stesse impostazioni però in questa maniera lavoro più tranquillo. A questo punto credo che sia utile constatare come esistano delle opzioni di visualizzazione differenti all'interno di questa interfaccia. Se noi andiamo a cliccare col tasto destro vediamo che abbiamo waveform è l'unico parametro selezionato quindi noi stiamo vedendo solo la forma d'onda e di bianco c'è scritto luma. Qui abbiamo waveform type cioè le opzioni per la forma d'onda al momento è appunto selezionato luma. Noi possiamo anche selezionare rgb. Vedete che il grafico cambia e in questo momento funziona esattamente nello stesso modo ma oltre alle informazioni luminose ci fa vedere anche le informazioni di colore. Infatti questo rosso è certamente la mia mano, questo blu è certamente questo blu che sta sulla mia spalla e sul microfono, questa punta di blu è sicuramente il blu sulla mia faccia, questo rosso è sicuramente la mia fronte e così via. Qui abbiamo questa questa sottile striscia di arancione che quasi certamente è questo picco che vediamo da questa parte. L'immagine è simmetrica quindi quello che a sinistra sarà a sinistra e quello che al centro sarà al centro per cui è anche facile da leggere. Io sconsiglio di usare il waveform type rgb perché useremo degli altri metodi di indagine del colore quindi in questo caso vi consiglio di mantenere luma così vediamo solo le informazioni luminose e useremo questo grafico solamente per le informazioni relative alla luminosità. Andiamo ora ad aggiungere un secondo parametro e andiamo ad aggiungere vectorscope. Ora come potete vedere si aggiunge una seconda parte e questo vectorscope ci dà delle informazioni aggiuntive solo sul colore infatti qui abbiamo la possibilità di vedere che da un punto centrale il nostro colore si biforca e quindi sappiamo che nella nostra rimpresa ci sarà un po' di blu infatti vediamo che ce n'è parecchio e ci saranno un po' di giallo e un po' di rosso infatti li vediamo quindi questo grafico ci fa vedere come è distribuito il colore all'interno della nostra ripresa tant'è che se noi andiamo a prendere il parametro saturazione vedete cosa succede al variare del parametro saturazione succede che il nostro grafico ci mostra come il colore sia di più o di meno all'interno della nostra ripresa. Una cosa da tenere bene a mente questi box che delimitano il nostro colore servono a segnalarci quelli che sono i limiti legali per la televisione infatti se noi andiamo a eccedere vedete qui qui stiamo eccedendo i limiti legali per la televisione se noi abbiamo fatto un master per la televisione che eccede questi limiti il nostro master viene rifiutato e ci viene chiesto di rifarlo con dei parametri che rispettino la normativa per quella che è la distribuzione televisiva quindi il nostro colore non può fuoriuscire da quest'area questa è una cosa importante sempre a proposito di colore vediamo che qui abbiamo anche la possibilità di selezionare il color space ovvero lo spazio colore noi qui abbiamo la possibilità di impostarlo su automatico cosa che sconsiglio caldamente abbiamo la possibilità di impostare rec 601 ora il 601 è la modalità di trasmissione della vecchia televisione analogica quindi sconsiglio un suo utilizzo salvo per utilizzi molto particolari rec 709 709 è lo standard attuale per la televisione digitale quindi la maggior parte delle volte utilizzeremo questo anche perché questo è lo standard per la distribuzione web quindi va benissimo che usiamo questo che infatti è impostato rec 2020 è una modalità di spazio colore che utilizzeremo per delle trasmissioni ad altissima risoluzione quindi se vogliamo proprio la massima qualità possibile e se stiamo lavorando per un emittente che ce lo richiede possiamo andare a utilizzare rec 2020 qui abbiamo delle altre modalità che non vi sto neanche a spiegare perché sono così particolari che io personalmente non le ho nemmeno mai utilizzate di solito mi limito a utilizzare la 709 in certi rarissimi casi posso utilizzare la 2020 ma se lavoriamo per il web come è probabile rimaniamo qui che va sempre bene procediamo con la nostra indagine degli strumenti di analisi andiamo a rivelare parade rgb andiamo a vedere che questo è di nuovo uno strumento per l'analisi del colore ci dà anche delle informazioni sulla luminosità infatti noterete un parallelismo con la nostra forma d'onda infatti qui abbiamo la forma d'onda scomposta per i tre canali rosso verde blu a questo punto noi possiamo andare a lavorare per singolo canale vi faccio già vedere come è possibile farlo qui noi abbiamo la possibilità di utilizzare le curve del nostro lumetri color e quindi qui possiamo selezionando un colore possiamo andare ad agire sul singolo colore vedete in questo momento io sto lavorando solamente sul rosso sto aumentando le luci rosse e sto diminuendo le ombre rosse in questo modo sto aumentando il contrasto solamente sul canale del rosso posso andare a fare la stessa cosa sul verde magari con una curva lievemente differente infine posso andare a fare la stessa cosa sul canale del blu ma questa volta facciamo il contrario facciamo la s al contrario ora come potete vedere ho eliminato la parità tra i miei colori perché questa era una ripresa che era abbastanza bilanciata e adesso invece come potete vedere non è più bilanciata anzi è completamente fuori controllo io adesso vado ad annullare le modifiche che ho fatto vedete che torna a essere normale in questo momento nella mia ripresa iniziale che è stata fatta con un color checker e il colore è stato già bilanciato vedete che i miei colori sono distribuiti abbastanza equamente certo c'è una prevalenza di rosso ma questo è normale perché questi sono i colori del mio viso e dei miei capelli soprattutto nonché della lucina arancione che io posiziono su un lato che quindi fa questa questa rim light questa luce di accento un po colorata quindi io non voglio ridurre questo rosso perché andrei a snaturare quella che è la ripresa che invece mi va benissimo così com'è quindi questo è uno strumento che unitamente alle curve ci permette di andare a intervenire sui colori in maniera abbastanza incisiva e abbastanza precisa proseguiamo andiamo a vedere probabilmente l'ultimo strumento di cui abbiamo bisogno andiamo a vedere l'istogramma l'istogramma è lo strumento che conosciamo già bene tutti quanti perché è presente su tutte le nostre macchine fotografiche e quindi fondamentalmente ci mostra come sono distribuiti i toni colorati e come è distribuita la luminosità all'interno della nostra immagine quest'istogramma è rovesciato quindi abbiamo le alte luci in alto e abbiamo le ombre in basso mentre i mezzi toni sono nel centro ora qui come potete vedere io posso andare a abbassare per esempio i neri e vedete qui che mi si forma una nuova montagnetta di fianco questo mi sta segnalando che esiste un clipping sulla mia immagine quindi io dovrei cercare di alterare i miei valori ma senza creare una montagnetta troppo prominente su questo lato io adesso vado ad annullare riporto i valori come erano precedentemente quindi questa è una montagnetta che mi segnala che c'è un po di perdita di segnale probabilmente si riferisce all'area più buia del microfono però diciamo che è tollerabile ovviamente non vogliamo fare una cosa del genere qui abbiamo una perdita di segnale consistente può essere quello che desideriamo per carità però in una ripresa che vuole essere più bilanciata possibile quindi in ambito di color correction io sconsiglio una modifica di questo tipo andremo a riparlarne semmai quando si parlerà di color grading quindi di dare un mood preciso all'immagine ma per il momento vogliamo solamente che la nostra immagine sia più bilanciata possibile e direi che ci riusciamo abbastanza bene perché con tutti questi strumenti che ci fanno vedere se il nostro colore è bilanciato in questo modo ci fanno vedere se siamo all'interno di un'area di tolleranza che definirei comunque buona riusciamo ad avere un'immagine che rispecchia delle caratteristiche per cui possiamo pubblicarla senza troppi problemi una volta che abbiamo terminato possiamo prendere la nostra tab lumetri scopes e per esempio a me piace posizionarla in questa posizione la metto qui semplicemente perché così è a portata di mano e posso fare undock quando mi pare e portarla fuori per lavorarci e poi posso tornare alla mia visualizzazione normale esiste anche la possibilità di utilizzare la tab color che ci riconfigura tutte le finestre in maniera tale da dedicarci unicamente alla color correction è un'opzione che io non vi faccio vedere perché su tutte le versioni di premier che mi è capitato di utilizzare quando io clicco su un nuovo spazio di lavoro in particolare color mi crasha il programma o quantomeno mi si riconfigurano le finestre e poi non riesco più a vedere l'immagine sul monitor quindi questo è un bug che ho riscontrato però diverse volte su diversi sistemi quindi io personalmente vi sconsiglio di utilizzare queste tab semplicemente perché a me con la mia versione da dei problemi mi crasha spesso non mi fa più vedere le cose le modifiche diventano attive solamente se chiudo e riapro il programma insomma è fastidioso preferisco di gran lunga fare questo movimento ed ecco qui la finestra che mi serve dopodiché me la sposto e me la metto dove voglio e quando ho finito la riposiziono semplicemente qui questo è il mio metodo di lavoro ovviamente ognuno di voi deve trovare il suo vi faccio vedere come lavoro io perché reputo che possa essere abbastanza comodo come punto di partenza da seguire per sviluppare poi un vostro gusto personale da andare a inserire all'interno dei vostri processi di color correction bene amici come avete potuto vedere si tratta di uno strumento assolutamente complesso più complesso di quello che abbiamo per quanto riguarda la parte fotografica chi è esperto di fotografia avrà presente il classico istogramma in fotografia noi ci basiamo esclusivamente sull'istogramma o sull'esposimetro per fare le nostre esposizioni per fare il colore usiamo il cartoncino e siamo a posto così in questo caso invece la faccenda è più complessa anche qui dovremo utilizzare il cartoncino con il punto di grigio se vogliamo avere una colorimetria fedele però è anche vero che ogni corpo macchina abbinato a ogni lente ci darà delle variazioni quindi non avremo mai lo stesso colore su due corpi macchina diversi seppure della stessa casa produttrice non avremo lo stesso colore quindi è molto importante che andiamo a capire come è possibile modificarlo in post produzione con gli strumenti di analisi siamo in grado di vedere le luci e i colori dove si collocano e in video successivi andremo a scoprire con gli strumenti di modifica come è possibile andare ad appaiare delle riprese che hanno delle differenze ovviamente non si possono fare miracoli perché se andiamo a spingere troppo sulla colorimetria andiamo a tirare fuori degli artefatti quindi è importante girare le cose in camera in maniera quanto meno corretta però è vero anche che possiamo intervenire in maniera anche abbastanza incisiva sulle nostre riprese trasformando completamente il mood del nostro prodotto finale ma questa è un'altra storia che vi rimando ai video successivi e per questo motivo vi invito a iscrivervi a questo canale attivando la campanella in maniera tale che quando usciranno questi episodi non ve li perderete lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che l'argomento un pochino vi ha preso e che dire io vi do appuntamento ai prossimi video iscriviti al canale